Vediamo poi da lontano il primo passaggio della discesa degli allievi Allievi vedremo se riusciamo a capire chi è davanti Ecco li vediamo in lontananza Sembra la lunga prima attenzione al prano Che il cappeggio è un gruppo molto molto di allievi Li vediamo qua sotto Eccoli qua Eccoli qua Tri atleti Vediamo anche atleti a Val di Cimbra E qua proprio Li vediamo in questo momento passare davanti e tirare il gruppo Per l'allievi davanti a tutti i desideri Bortrotti Staccata di qualche metro La Ranizzoli E Trilacu va a dicembre Poi vediamo ancora Luana Ianez In terza posizione Quella è quindi società di casa Quella che organizza proprio Anche in stazione ottene Ecco li dobbiamo ringraziare Tanto si sta avvenendo il gruppetto degli allievi In terza posizione Vediamo se sta aspettando di dare la dampata giusta E' dappena cercare di portare a casa la gara Odierno Le maschietti Vediamo chi è davanti a tutti Col numero 412 Di Simone dell'atletica Val di Cimbra Seguito da Grima e da Weber del Champions Adesso vediamo le donne Ecco qua si è Bortrotti Per lei Un applauso Completa il primo giro Ne è ancora uno per Trilacu E poi Staccata di qualche metro A me ne ha le 5 stelle E poi via via Le altre Via E' ancora una parte Bravissima Da casa Da casa Alla fine davanti a tutti E per un gruppetto Rigo Davide Che è stata la poettiva Borgo Tra sul podio E invece vedremo arrivare Le allieve Solitari Con grande margine Di quest'oggi Un applauso per Desiree A Bortrotti E vediamo per la seconda posizione Gran finale Per numero 402 Per Angelica Bonelli Stella alpina di Carano Per lei Secondo posto E terzo Per Luana Ianes Cilezzano E quarto Lara Rizzoli A dicembra Queste le prime 4 posizioni Allieve Andiamo ad arrivare anche Altre atlete Al traguardo E ora adesso Spetteremo anche la gara Al Gievi Alla è Morgido Dai Rimas Bravo Bravai 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 Dai Rima Dai Rima Dai Rima Dai Rima Dai Rima Dai Rima Villa Rima che si presenta davanti a tutti sul retegno Applauso per Luca Grima che va a vincere la gara davanti a un ottimo Davide Rigo Villa Sano a due prime posizioni.